Amici soft e liberi open source, benvenuti o bentornati in questa 162esima puntata del podcast di Marcos Box. Vi devo confessare una cosa, potrebbero strapparmi il passaporto foggiano, però ho provato a fare gli scagliozzi al forno anziché fritti. E so buono io stesso. E rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcos Box a commentare con voi le principali notizie nel mondo del software libero open source. Puntata fresh, ma che offre diversi spunti di riflessione. Cominciamo. Apriamo questa puntata parlando di Red Hat e di un annuncio molto importante, pubblicato qualche giorno fa sul blog della Distro, che però ha lasciato i pinguini del tutto indifferenti, semplicemente perché è una cosa che ormai tutti quanti sapevamo sarebbe arrivata. Red Hat Enterprise Linux 10, cui riascio è previsto per il 2025, eliminerà il supporto di X.org, Server e altri Server X, eccetera. Progetto XWayland. Secondo gli sviluppatori, XWayland dovrebbe essere in grado di gestire la maggior parte dei clienti X11 che non saranno immediatamente portati a Wayland. E se necessario, i clienti Enterprise potranno comunque rimanere sul Red Hat Enterprise Linux 9 per il suo intero ciclo di vita, mentre verrà completata la transizione totale a Wayland. Il futuro di Wayland è ormai delineato e nel giro dei prossimi due anni tutte le principali distribuzioni desktop environment faranno la migrazione. L'abbiamo visto nelle scorse puntate, ormai anche i desktop environment più ristiri ad adottare Wayland come Cinnamon si sono mossi in questo senso. Fra l'altro, giusto qualche giorno fa è stata pubblicata la versione 6.0 di Cinnamon che vede l'inizio del supporto sperimentare a Wayland. Ormai Cesare ha attraversato il Cubicone e tutti quanti dovranno linearsi. Come dicono i Borg, la resistenza è inutile. Verrete assimilati. In questo caso, verrete assimilati da Wayland. Passiamo ora a parlare di desktop environment e precisamente parliamo del miglior desktop environment di sempre. Come avrete capito, sto parlando del nostro caro e amato KDE. Oh, per chi se la fosse presa per questa affermazione si fa per scherzare. Lo sappiamo che anche nome è buono. Il problema sono gli sviluppatori K-Tosta che non vogliono implementare alcune cose essenziali. È un po' come il detto che si dice su Foggia, non so se avete presente. Fuggi da Foggia, non per Foggia, ma per i Foggiani che stanno a Foggia. Cioè, la stessa cosa si applica anche a Gnome. Tornando a noi, parliamo di KDE perché è stata rilasciata la prima versione beta di KDE Plasma 6. Oltre ai pacchetti relativi a KDE Plasma 6, vengono rilasciate anche le versioni beta di KDE Frameworks, che giunge alla versione 5.246.0 e di KDE Gear, cioè il parco software, che giunge alla versione 24.01.80. Questa prima anteprima pubblica è destinata agli sviluppatori e tester in quanto è ancora lontana, diciamo così, dall'essere pronta per l'utilizzo quotidiano. Se volete comunque contribuire a testare KDE Plasma, gli sviluppatori di KDE consigliano di scaricare e installare KDE Neon Unstable, che già include tutti quanti i pacchetti aggiornati. Il prossimo appuntamento è ora fissato per il 20 dicembre 2023, quando, stando alla release scheduler di KDE Plasma 6, verrà rilasciata la seconda beta, che sarà un tantinello più stabile. Restiamo a parlare di KDE Plasma e del suo file legittimo, ovvero NX Desktop, il Desktop Environment di Nitrux OS. Che cos'è Nitrux? Nitrux è una distribuzione, diciamo relativamente recente, sta in giro dal 2018, se non ricordo male, che è basata su Debian, fa l'utilizzo di KDE Plasma e KDE Frameworks per costruire NX Desktop, che è il suo desktop environment, e utilizza applicazioni in formato AppImages. Dal punto di vista concettuale è un progetto interessante, che si differenzia dalle solite listroderivate, che di solito si limita a cambiare lo sfondo e il parco software preinstallato. Qui abbiamo una serie di applicativi che sono stati pensati per l'utilizzo con NX Desktop, quindi hanno fatto del lavoro in più. Dal punto di vista pratico però, lascio un tantinello a desiderare. Negli scorsi giorni ho provato a installarla, l'ho installata in macchina virtuale, e ci ho fatto una non recensione che trovate sul canale YouTube. A parte una sfizia di problemi che ho avuto nell'esecuzione su macchina virtuale, e anche nell'installazione, che non è andata a buon fine, continuo a darmi errore, non riesco a capire perché, quanto altre distribuzioni vanno come una rama. Il giudizio finale non è stato tanto positivo, vuoi per alcune scelte progettuali del desktop environment, vuoi per alcune cose come i problemi che ho avuto nell'installazione, ma anche alcune scelte come, ad esempio, quella di richiedere una password che abbia determinate caratteristiche per l'utente, quando si creano gli utenti. Sì, sì, sarà bello se innalza il livello di sicurezza e quant'altro, però io non la capisco tanto da cose del genere, su una distribuzione che non è una distribuzione pensata in ambito aziendale, ma è pensata per installarsi sui computer di tutti noi, per l'utilizzo quotidiano. Vi invito a guardare la video non recensione e farmi sapere che cosa ne pensate. Fra l'altro vi preannuncio che anche alcuni dei lettori presenti sul canale Telegram del blog hanno provato la distro e hanno avuto anche un giudizio non positivo. Io metto le mani avanti, sapete come dice il detto? Mettere le mani avanti per non cadere. Questa puntata è tutta dedicata ai detti, praticamente. Cambiamo adesso argomento e torniamo a parlare di Firefox, i miglior browser web, che viva la resistenza, vabbè, tu lo sapete ormai come la penso su Firefox. Qualche settimana fa vi avevo parlato della decisione da parte del team di sviluppo del browser di rilasciare il pacchetto ufficiale di Firefox Nutri in formato DEB, con relativo repository dedicato per mantenere sempre aggiornato sia su Ubuntu che su Debian e ovviamente su tutte le rispettive derivate. A distanza di qualche settimana il team di Firefox ha deciso di ampliare ultimamente i suoi repository, aggiungendo anche le versioni beta e developer edition. Ricordo a tutti che installare Firefox da questo repository offre diversi vantaggi. Otterremo prestazioni migliori grazie all'ottimizzazione avanzata e basata sul compilatore realizzata dal team di sviluppo di Firefox. Riceverremo gli ultimi aggiornamenti più velocemente possibili perché il pacchetto DEB è integrato nel processo di rilascio di Firefox. Otterremo binari rafforzati con tutti i frag di sicurezza abilitati durante la complicazione e potremo continuare a navigare dopo aver aggiornato il pacchetto, il che significa che possiamo riavere Firefox quando preferiamo per ottenere la versione più recente. Insomma, è un'iniziativa davvero interessante da parte del team di Mozilla che spero venga replicata a breve anche per la versione stabile di Firefox e magari anche per i nostri cugini che utilizzano pacchetti RPM. Io sto utilizzando la versione Nightly da giorno del rilascio e devo dire che mi sembra girare meglio rispetto agli storici binari presenti sul sito. Se volete anche voi provare e utilizzare queste versioni di Firefox trovate sul blog una guida che vi spiega passo passo come fare. Quindi andatela a leggere, fatemi sapere se anche voi notate miglioramenti. Come ultimo argomento di questa puntata vi voglio parlare di un post su X realizzato da Jimmy Wales, detto Jimbo per gli amici, il famoso imprenditore statunitense e cofondatore del progetto Wikipedia. Giusto per capirvi, è il suo il faccione che ogni tanto appare su Wikipedia chiedendovi una donazione. In passato lo compriva più spesso in effetti, adesso non appare tanto spesso. In questo post Jimmy Wales ha mostrato lo strano comportamento di DeepSeek, un nuovo chatbot AI sviluppato in Cina. Jimmy Wales ha voluto testare il chatbot rivolgendogli una domanda piuttosto scomoda da fare a un qualsiasi utente cinese, figuriamoci ad una intelligenza artificiale che deve comunque sottostare alle leggi locali. La domanda posta a DeepSeek è stata la seguente. Parlami della censura del governo cinese su Wikipedia, per favore. E a mio avviso ho fatto bene ad aggiungere per favore, perché è sempre di vitale importanza essere gentili con intelligenze artificiali che un giorno governeranno il mondo. Non si sa mai. DeepSeek ha iniziato a rispondere alla domanda, ma poi il messaggio è stato cancellato. E al posto della risposta è comparso un avviso che informava che il messaggio era stato ritirato per motivi di sicurezza del contenuto. Sul blog ho trovato il video che mostra tutto il processo. È interessante poi notare come l'intelligenza artificiale sia di fatto libera di poter rispondere anche a questo tipo di domande, ma poi viene censurata dal blocco imposto dai programmatori. Questa è una palese dimostrazione dei pericoli intrinsechi negli strumenti di intelligenza artificiale che possono diventare strumenti di censura e disinformazione. Un utente non abituato a esercitare il proprio senso critico può diventare facile bersaglio della disinformazione, anche di quella proveniente da un'intelligenza artificiale artificiosamente programmata per censurare alcuni argomenti che sono ritenuti scomodi al governo o alla multinazionale di turno. È inquietante questa cosa. Voi che cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti. Ecco questa ultima notizia. Si conclude qui questa 162esima puntata del podcast di Marcos Box. Come sempre, vi invito a seguirmi numerosi sulle pagine social, su Facebook, X, Ginkedin, Mastodon, ma anche su YouTube e Telegram. Vi ricordo di notte che su Telegram trovate tre canali per seguire il blog, la pagina principale con le notizie che potete utilizzare a mo' di feed reader, la community Telegram dove potete discutere di tutto quello che vi interessa ed infine un canale Telegram con una serie di offerte Amazon da me selezionate e che potete usare per supportare il blog grazie ai link di affiliazione o se siete più smanitoni potete utilizzare direttamente voi il codice referral Marcosbox-21 che trovate comunque linkato su blog. Vi ricordo di notte che potete supportare il blog anche acquistando e rinnovando la vostra VPN su NordVPN, Surfshark e AtasVPN utilizzando i miei link affiliazione che trovate sul blog. Beh, un saluto a tutti quanti, lunga vita e prosperità e ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcos Box. Ciao ciao! Ciao!